Salve, vorrei in questo breve tutoriale mostrarvi una funzionalità che può essere interessante per velocizzare la correzione dei compiti scritti in particolare per le discipline di tipo umanistico naturalmente, che si chiama MOTE. Questo elemento è una estensione di Google Chrome, cioè una di quelle funzionalità che si aggiunge alla barra di Google Chrome e che ne amplia il funzionamento. Vediamo innanzitutto in che cosa consiste e poi vediamo come aggiungerla. Quando noi docenti correggiamo i compiti consegnati dai ragazzi in Google Doc e apriamo il compito come in questo compito fittizio, normalmente utilizziamo per correggere, evidenziare la frase o le parole e poi utilizzare il pulsantino che compare accanto per aggiungere magari un commento, oppure anche eliminiamo la parola, il periodo, quello che non va bene e automaticamente si apre questo box laterale in cui possiamo aggiungere degli elementi di commento. Questa volta, come vedete, il box che si apre è corredato di un'iconcina che porta la scritta in inglese click to record or hold for MOTE book. Quindi clicca per registrare, per cui abbiamo un vero e proprio registratore inserito, incorporato nella funzione del commento di Google Doc. Per cui attivando questo pulsantino noi andremo a fare una annotazione vocale. Quindi è come se stessimo parlando all'alunno e spiegando vocalmente, quindi oralmente la ragione del nostro intervento. Ad esempio, cliccando, abbiamo adesso la possibilità di registrare una nota vocale. Caro Alessandro, questa parte del tuo compito non va bene, soprattutto l'espressione colpiscono ogni zona, è lessicalmente imprecisa. Dovresti invece utilizzare un'altra espressione del tipo si abbattono su ogni area del mondo. Dopo aver fatto la nostra nota vocale, che può durare fino a un minuto e mezzo, clicchiamo su DA. Dopodiché dobbiamo appunto confermare rispondi oppure aprire la nostra nota vocale perché questa nota vocale viene trascritta, cioè quello che noi abbiamo pronunciato viene automaticamente convertito in testo dal programma. Il programma per la verità commette un po' di errori in questa comprensione della nostra voce, soprattutto se non è precisa e pulita. Ma questa funzione di trascrizione si può naturalmente anche disabilitare, quindi resta soltanto l'audio. Proviamo a vedere. Ecco, in questo momento si avvia la trascrizione, vedete. Caro Alessandro, questa parte del tuo compito non va bene, soprattutto l'espressione colpiscono ogni zona, è lessicalmente imprecisa. Dovresti invece utilizzare un'altra espressione del tipo si abbattono su ogni area del mondo. Come avete visto, io ho inserito una nota vocale che è stata trascritta con alcuni errori ed imprecisioni. Dopodiché posso salvare questa nota vocale, quindi cliccando su Save, e questa resta collegata a quella parte di testo che ho commentato. Cliccando su Aggiungi, questa viene aggiunta, dopodiché esco dall'editor. Ecco, in questo caso il ragazzo, quando apre il compito, troverà una nota testuale e vocale in relazione a questa singola parola o a un intero passo. Questo è molto utile, soprattutto nel caso di correzioni complicate, estese, che implicano la revisione di intere frasi o di interi periodi, diciamo anche per il latino, per esempio, per le lingue stranieri. Quindi è possibile selezionare un intero paragrafo, tutto il paragrafo, e anziché inserire una correzione manuale lunga e faticosa, dispendiosa, interveniamo con una nota vocale, come se fossimo proprio di fronte al ragazzo e gli stessimo spiegando che cos'è che va o che cos'è che non va in quella sua scrittura. Le note vocali naturalmente si possono anche aggiungere nella parte finale quello che è il commento privato, per cui se vogliamo evitare di scrivere un intero brano, possiamo anche qui dettare una nota vocale. Alla fine non dobbiamo fare altro che abbandonare il nostro compito. Quando restituiremo il compito al ragazzo e il ragazzo lo aprirà, troverà le note vocali legate alle varie parti che noi abbiamo evidenziato e sottolineato. Non ha bisogno di iscriversi al programma di possedere l'estensione perché gli basterà cliccare sull'iconcina del play per cui si aprirà in un'altra schermata, purtroppo non contestualmente, una pagina attraverso la quale potrà ascoltare la voce del prof che gli dà delle indicazioni. Noi lo troviamo integrato nella barra di Google, lo possiamo utilizzare a prescindere da Classroom e da Google Doc, quindi se noi clicchiamo su questo pulsantino noi possiamo comunque registrare una nota vocale che avrà il suo link e che potremo includere in una mail, potremo includere nello stream di Classroom, insomma questi modes come si dice possono essere utilizzati come delle vere e proprie clip registrate al momento e distribuite in qualsiasi modo all'utenza. Possiamo quindi anche disabilitare la trascrizione agendo su setting ed helps, innanzitutto lui ci chiede quale è la lingua da utilizzare per la trascrizione, italiano se è italiano, inglese se è inglese, ma possiamo anche disabilitarla in modo da evitare che la trascrizione sia imprecisa e che quindi magari noi dobbiamo correggere quanto abbiamo dettato. L'account è un account gratuito a livello base, quindi prevede insomma delle funzionalità piuttosto limitate, ecco non la trascrizione e nemmeno la traduzione perché sarebbe possibile addirittura anche chiedere la traduzione, cioè parlo detto in italiano e traduce in inglese o viceversa oppure possiamo avere un upgrade, quindi pagare dopo il periodo di prova una certa cifra che non è esorbitante per poterne disporre di tutte le funzionalità in maniera estesa. Come inserire mode tra le estensioni? Beh qui bisogna, ci sono due o tre strade, o andiamo a ricercare direttamente da google il nostro sito quindi mode su justmode.me e quindi andiamo a vedere che sulla home page abbiamo il pulsante add to chrome e qui parte il processo che consente dopo aver dato le dovute autorizzazioni di aggiungere appunto a chrome questa estensione che ritroveremo in alto a destra dove ci sono tutte le nostre estensioni con cui potenziamo la barra di chrome. Lo scarichiamo quindi dal web store di chrome e quindi dopo averlo scaricato lo aggiungiamo. Possiamo rimuoverlo se non ci interessa più nello stesso modo cliccando su rimuovi da google chrome. Bene, non resta che provare appunto questo dispositivo che potrebbe essere un utile mezzo per velocizzare le correzioni. Bene, grazie dell'attenzione e alla prossima pillola informativa.